Un inizio difficile che sapevamo essere in queste condizioni perché purtroppo siamo partiti tardi però siamo partiti l'importante era che i cavalieri non uscissero dal ranking dell'eccellenza. Adesso stiamo costruendo la squadra, questo mese per noi è un mese di transizione arrivano i giocatori purtroppo alla spicciolata però noi avremo l'organico completo adesso fine ottobre e primi di novembre quindi c'è un po' di pazienza, i giovani che abbiamo preso stanno facendo esperienza e le esperienze migliori sono quando si gioca contro le squadre più forti l'occasione è chiaro, noi dobbiamo puntare a un campionato quest'anno abbastanza guardingo, i giocatori che arriveranno ci danno questa fiducia e quindi dobbiamo aspettare, dobbiamo aver pazienza, soprattutto i nostri tifosi devono aver pazienza, i nostri sponsor ma sicuramente anche quest'anno faremo un buon campionato e potremo fare delle belle partite anche in casa.